Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di lavori si registrano due chilometri di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Erest in direzione Livorno. A causa del traffico intenso invece code in uscita alla Strassign e Santa Croce sull'Arno sempre in direzione Livorno. Passiamo sulla 1 anche qui a causa del traffico intenso rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Sempre in A1 si ricorda che stanotte in orario 22.6 rimarrà chiusa l'uscita di Firenze Sud in direzione Roma. Cantieri di Firenze domani martedì 25 gennaio in orario 9.19 per lavori con piattaforma aerea chiusa via dell'Olivo nel tratto da via dei Pepi a via Michelangelo Bonarroti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!